Grazie Presidente, Avvocato Reddice. Buonasera ormai. Dottore, lei ha ricordo di sue assunzioni a sommarie informazioni presso la procura di Caltanissetta in epoca successiva alla strage di Via D'Amelio? Sì. Ricorda da quale magistrato o quali magistrati venne sentito? Qui a Caltanissetta, il 5 maggio del 1993 dalla dottoressa Bocassini e l'8 settembre del 2009 dai componenti della DTA quasi tutti al completo, tranne il dottor Lari che allora era il procuratore. Dalla precisione della sua risposta mi induce a farne un'altra. Sono le uniche due occasioni in cui lei è stato sentito qui a Caltanissetta dai pubblici ministeri? Sì, sull'argomento sì. Relativamente a questi due, sì sì. Poi sono stato sentito, se non ricordo male, anche altre volte. Altre vicende. Anche a Palermo. Vabbè, quello lo diamo per scontato. Senta, lei il 19 luglio del 1992 in che ufficio prestava servizio? A quell'epoca. Commissariato San Lorenzo-Palermo. In qualità di? Dirigente del commissariato. Dirigente del commissariato. In relazione alla strage di via D'Amelio, lei ebbe occasione di occuparsi in qualche modo di indagini? No, di indagini direttamente no. No, al tempo al commissariato San Lorenzo prestava servizio un sottufficiale, immagino, il cui nome dal verbale io apprendo, è Salvatore Angelo? Sì, Salvatore, il nome Totò, per capirci, Angelo il cognome. E dal... che grado aveva il sovrintendente, ispettore? Ma credo che fosse semplicemente assistente o sovrintendente, però... Allora, l'assistente o sovrintendente Angelo le ha mai riferito qualcosa avvenuto il 19 luglio 1992? Sì. E che lo vide personalmente, come dire, coinvolto, interessato? Sì, esattamente questo, e cioè che fu inviato, lui era uno dei due componenti della volante San Lorenzo, assieme all'altro, alberghina, ecco, adesso ne ricordo pure l'altro. E furono inviati alla sala operativa, sul posto, sul luogo dell'esplosione, quindi della strage, praticamente nella immediatezza della medesima, subito dopo. Credo che, se non ricordo male, arrivò come seconda o terza volante sul posto. D'altronde, la circoscrizione di San Lorenzo, lui faceva la volante San Lorenzo, è sostanzialmente adiacente a quella della zona di Via D'Amelio, vicino alla Fiera, eccetera. E le riferì di qualche presenza in particolare sui luoghi di Via D'Amelio nell'immediatezza? Sì, sì, mi riferì. E cosa in particolare le disse? Lo colpì il fatto che aveva lì visto, ritengo subito dopo o poco dopo essere arrivati lì sul posto, nella limitrofa Via Autonomia Siciliana, il sovrintendente Mannino, Mannino Salvatore, che passava da là. E in quel momento, cioè il 19 luglio 1992, lei sa dove prestava servizio il sovrintendente Mannino? A Firenze, al reparto mobile, cioè la cosiddetta Celere. Sì, lei sa prima di andare a Firenze dove prestava servizio il sovrintendente Mannino? A commissaria D'Amelio Salvatore. Sa quale fosse stata, intanto formalmente, la ragione del suo trasferimento a Firenze? Sì, ho saputo. Fu una cosa anche per me improvvisa. Io ho già precisato tutto l'altra volta. Il 10 giugno scorso sono stato qui. E ebbi premia conoscenza nell'immediatezza del trasferimento del sovrintendente Mannino per bocca del questore dell'epoca, il dottore Plantone, che mi chiamò e mi anticipò questo trasferimento dicendomi che sarebbe andato al reparto mobile di Firenze nell'immediato perché era pervenuta, in questura, nota informativa del SISDE laddove si riteneva, si diceva, si scriveva, che il sovrintendente Mannino era in pericolo di vita o qualcosa del genere e che pertanto andava spostato da Palermo. Per ragioni di incolumità. Ma presumo che il questore fu piuttosto laconico, che io ricordi, mi informò quale dirigente. Ripeto quello che ho detto già qui in questa serie, cioè che sulla nota del SISDE cioè che io non l'ho mai né letta né vista, ma siccome me dovrebbe dire il questore non avevo motivo di dubbio, anche perché poi nei fatti Mannino fu trasferito subito. Lei quando assunse la dirigenza del commissariato San Lorenzo? Il 15 di maggio del 1989. E nel periodo tra il 15 di maggio 1989 e il trasferimento del sovrintendente Mannino lei ebbe a occuparsi di notizie che riguardavano proprio il sovrintendente Mannino? Sì, sì. E in specie può spiegare quali fossero, come dire, quali fosse la ragione e la tipologia delle notizie riguardanti il sovrintendente Mannino? Allora, io dopo qualche tempo essere arrivato, essere stato messo alla dirigenza del commissariato San Lorenzo ho avuto modo di parlare con la signora Anna Corradi, detta la Ciotta, o anche la regina dello Zen che volle, che mi cercò specificamente, volle venire da me a farmi delle confidenze contattò un agente del commissariato che veniva con me dalla squadra mobile di Palè che mi faceva peraltro l'autista e venne più di una volta e tra le tante cose che disse e che io all'insaputa della medesima registrai disse anche che il sovrintendente Mannino prendeva le mazzette Si parlò, o meglio, la fonte confidenziale vi parlò di ipotetiche, come dire, relazioni di contiguità di Mannino con ambienti mafiosi? Questo non lo ricordo, l'Anna Corradi che peraltro era intesa la regina dello Zen perché era la persona che gestiva all'epoca il traffico, lo spaccio al minuto delle sostanze stupefacenti allo Zen quindi diciamo aveva un ruolo abbastanza, dal puntista delinquenziale, non indifferente ebbe a dire, ma ripeto è tutto registrato e io all'epoca inviai tutte cose alla procura della Repubblica di Palè ebbe a dire che aveva aderenze con i mazzè che all'epoca erano personaggi delinquenziali dello Zen di un certo rilievo prevalentemente, che io ricordi, del settore rapine nel settore, diciamo, nell'ambito delle rapine e dei furti di autovetture, motociclette e ricettazione ed erano un po' dentro lo Zen le persone più ritenute, più abbastanza autorevoli in quel periodo, autorevoli tra virgolette nell'ambito delinquenziali dello Zen Lei ha mai saputo se il sovrintendente Mannino abbia avuto in qualche modo rapporti con esponenti del SISDE? No, questo no, non lo so almeno non ricordo assolutamente nulla in merito Posto che il soggetto di cui ora le chiederò ha avuto anche altre funzioni ha mai saputo di rapporti del suo intendente Mannino con il dottor Bruno Contrada? No Buongiorno Lei dopo il 5 maggio 1993 continuò ad avere rapporti con il sovrintendente Angelo? Allora, Angelo dopo un po', credo alla fine del 93 o nel 94, fu trasferito dietro la sua richiesta alla questura di Trapa, città di dove era originario. Ha mai saputo dal sovrintendente Angelo se egli fu mai convocato dalla dottoressa Boccassini o da altri magistrati della procura di Palermo di Caltanissetta in seguito alle sue dichiarazioni? Sì, certo, è stato convocato qui a Caltanissetta in procura esattamente dalla dottoressa Boccassini. Le deposizioni, credo, a parte che relazionò a me come dirigente e le relazioni di servizio del sovrintendente Angelo furono trasmesse alla dottoressa Boccassini e lei, la dottoressa Boccassini, poi mi convocò e convocò anche sicuramente Angelo perché almeno una volta siamo venuti insieme qui in quell'epoca alla procura di Caltanissetta. E foste mai convocati innanzi alla corte d'assise per il processo sulla strage di Via D'Amelio? No, 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 che io ricordo che no. Presidente, io per il momento non ho altre domande. Vabbè, ci sono altre domande del pubblico ministero, dei difensori? Nessuna domanda del pubblico ministero, Presidente, grazie. Siccome era stato indicato come Salvatore D'Angelo, è la persona a cui fa riferimento adesso, è giusto? Presidente, io l'avevo indicato in lista testimoniale come Salvatore Angelo, proprio perché avevo preso dal verbale dottor Montalbano quel nome, poi in udienza è stato il pubblico ministero a riferire che Angelo fosse in realtà D'Angelo. E da qui... E' Angelo o D'Angelo in sostanza? Dal verbale, ma dalla deposizione del testimone che credo sia la cosa più... E' Angelo, è giusto? E' Salvatore Angelo. Angelo, Angelo, signor Presidente, se mi è permesso, Angelo, con la A iniziale. Va bene, sì. D'accordo, va bene. Ci sono altre domande dei difensori del pubblico ministero? Mi sembra di no. Deve fare altre domande, avvocato Repici? Sì. Come? No. Va bene, allora possiamo congedare il test? Grazie. Buongiorno. Grazie. Va bene, allora, si avvicina un attimo... Come? Campesi. Ah, Campesi, vero, sì. Sentiamo Campesi. Come? Va bene, intanto cominciamo. Ok, se non fosse concluso entro un quarto d'ora dovremmo poi sospendere per ragioni tecniche... Un quarto d'ora, un quarto d'ora io credo che non ci sia nemmeno... No, va bene, allora lo iniziamo a sentire, poi per ragioni tecniche verrà un attimo sospeso per la masterizzazione del supporto su cui vengono registrate le deposizioni. Va bene, allora, prego. Sì, vuole, allora, dovrebbe anzitutto prendere questa dichiarazione di impegno a dire la verità e poi dovrebbe dare le sue generalità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene. Sono il signor Campesi Roberto, sono nato a Palermo il 27-2-1959. Va bene. Sono residente a Palermo. Allora, la difesa di partecipi può procedere a lei, Sara. Buonasera, signor Campesi. Buonasera. Senza, lei ha mai prestato servizio nelle forze del mortino? Sì. In quale e in che periodo? Ho prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri e sono entrato in servizio nel 1982. E ha prestato servizio? Presta tuttora servizio nell'Arma? No, 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 assolutamente no. Fino a quando ha prestato servizio? Allora, io ho prestato servizio dal 1982 al 1983 presso il comando Legione a Palermo. E allora faccio una richiesta di prestigiazione. Ha prestato servizio in qualità di ausiliario o di militare dell'Arma a tutti gli effetti? Sì, sono entrato nell'Arma con la qualifica di Carabinieri ausiliario nel 1982. Quindi in servizio di leva? Sì. E il suo servizio da carabiniere è stato per tutta la durata del periodo di leva o anche il successivo? Cioè per intenderci, lei si raffermò dopo il servizio di leva? No, io sono andato in congedo e poi ho avuto un richiamo da parte dell'Arma dei Carabinieri ma non ho temperato perché svolgevo un'altra attività lavorativa e quindi il mio periodo regolare nell'Arma dei Carabinieri viene fissato 1982-1983. C'è una ragione per cui ha detto il mio periodo regolare? C'è qualcos'altro oltre al periodo regolare? Sì. Bene, puoi spiegare di cosa si tratta? Allora, io ho svolto un incarico per il quale sono stato contattato per i sistemi di difesa dello Stato italiano. Sono stato contattato da un reparto specifico dell'Arma dei Carabinieri e subito dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio ho iniziato a collaborare con il reparto del gruppo di intervento speciale dei Carabinieri che ha approntato un sistema per rendere più efficace la difesa della personalità a rischio che era il Dottor Giuseppe Ialo. Sì, allora andiamoci per Gradi. Lei dice, io venne contattato da un specifico reparto dell'Arma e poi ha spiegato di che cosa si trattò in epoca successiva, mi pare di capire. Il contatto avviene già dopo la strage di Via D'Amelio o prima? Il contatto è avvenuto subito dopo la strage di Via D'Amelio. Fra il 1983, epoca in cui si era congettato e il momento in cui fu contattato subito dopo la strage di Via D'Amelio lei ebbe rapporti con l'Arma dei Carabinieri? Sì. In che epoca e per quali ragioni? Il rapporto è stato continuativo anche allora quando io ho lasciato ufficialmente l'Arma perché avevo una preparazione specifica e ho collaborato per diverso tempo con il nucleo catturandi della Caserma Carini e ho avuto anche degli incarichi che poi hanno portato all'arresto di personaggi di spicco della criminalità organizzata legati al traffico di droga internazionale. In particolare mi riferisco alla cattura del boss Miceli che era rientrato del boss Miceli. Il cognome e il nome? O diciamo la provenienza geografica? Era latitante da tantissimi anni e io avevo individuato il covo dove il Miceli si nascondeva e quindi avevo approntato queste note informative operando con il nucleo catturandi pervenendo alla cattura del pericoloso latitante. Può riferire alla corte il nominativo di qualcuno degli ufficiali o sotto ufficiali con quelli appartenenti al nucleo catturandi con cui lei ha avuto rapporti? Il capitano Zanaroli che all'epoca dei fatti era il comandante della catturandi di Palermo della Carini del nucleo operativo ma collaboravo anche con altri nuclei speciali dei carabinieri. e quali? Sempre della catturandi. Le collaborava con la catturandi e con il capo, cioè il capitano Zanaroli e poi ha detto che collaboravo anche con altri nuclei speciali. Sempre della catturandi di Palermo? Non solo. Anche di altri luoghi d'Italia? Sì. E di quali città? Il reparto era di Stanza Livorno, anche attualmente adesso è in Stanza Livorno e del gruppo di intervento speciale dei carabinieri. Il reparto di Stanza Livorno, quale reparto è? GIS. Il GIS? Io sono stato contattato da un istruttore che si chiama il maresciallo Cuomo, C di Charlie Cuomo. Il nome non lo ricordo perché... Sì, ha detto Charlie? Cuomo, Cuomo. Il maresciallo Cuomo. Cuomo. Sì. E che era in servizio al GIS lì a Livorno. Sì. Ed è stato tramite lui che ha prestato la collaborazione a quel reparto speciale? Sì. E in concreto in che cosa è consistita la sua collaborazione con il GIS di Stanza Livorno? Allora, io come Mansioni avevo il compito della responsabilità personale del dottor Ayala. No, no, dicevo al GIS nel periodo precedente alle stragi, io intendevo. Oppure ho capito male e allora le chiedo scusa. No, il contatto con il GIS specificatamente dopo le stragi è avvenuto con il maresciallo Cuomo, con il quale è stato pianificato e mi venivano fornite delle informazioni che poi io dovevo mettere tecnicamente in atto sul territorio, allora quando la personalità lasciava Roma e doveva raggiungere Palermo. Tutto ciò si verificava nel momento in cui ero io l'unico a sapere gli spostamenti del dottor Ayala che mi venivano inoltrati. Non mi era altra persona all'infuori di me che conoscesse realmente gli orari di partenza e di arrivo della personalità. Tanto è vero che una volta quando la personalità è giunta da Roma, il responsabile della Polaria di Palermo mi voleva arrestare perché mi aveva fermato con la scorta in quanto diceva che lui doveva essere informato di questi movimenti, delle fasi di atterraggio della personalità, io ritarevo invece per i compiti che mi erano stati assegnati che dovevo essere proprio l'unico a conoscere gli spostamenti del dottor Ayala e così in realtà è stato. Tant'è vero che ero io che disponevo di tutti i mezzi, disponevo del nucleo elicotteri, gli elicotteri si alzavano su mia segnalazione e non vi era soltanto un elicottero a disposizione, erano due 412 che attendevano l'arrivo delle mie disposizioni e si volava con il personale a me messo a disposizione e soprattutto quando arrivava anche l'onorevole Ayala c'erano anche altri due operatori del GIS che volavano sugli elicotteri con me. Ora ci arriviamo signor Campesi, le chiedo di fare un passo indietro perché io avevo compreso male quando lei quindi dice che ha collaborato con il GIS e ora sta aggiungendo vari dettagli si tratta di collaborazione tutta successiva alle stragi, per intenderci alla strage di Via D'Amelio? ho capito bene, lei invece prima aveva parlato di un rapporto di collaborazione con il nucleo catturanti di Palermo che aveva pure portato dei risultati, questo rapporto di collaborazione mi era perso di capire che era precedente alle stragi ho capito bene? si, era precedente alle stragi ma non con il reparto del GIS perché il GIS non era mai intervenuto sul territorio per la cattura del boss Miceli. bene, quindi fra il suo congedo dell'83 e le stragi del 92 il suo rapporto di collaborazione è consistito solo nel rapporto di collaborazione con il nucleo catturanti di Palermo? si in epoca successiva alle stragi c'è questo rapporto di collaborazione con il GIS, oltre che con il GIS ha collaborato con altri reparti dopo le stragi? sì, perché ovviamente la pianificazione dell'attività difesa posta per il dottor Ayala era relazionata e concordata con il nucleo operativo di Palermo, con il comando provinciale con la prefettura di Palermo nella figura del prefetto museo e vi era anche il rapporto con... dunque un attimo che dobbiamo purtroppo sospendere qualche minuto per una questione tecnica un attimo se si possono avvicinare allora le parti che vediamo quella famosa programmazione e nelle prossime udienze di farla adesso grazie